Terra Mara, anticipazioni delle emozionanti puntate di venerdì 2 febbraio e sabato 3 febbraio, dove vedremo Mehmet chiedere Zuley e sposa, ma lei cadere vittima di un terribile incidente. Khadir raggiunge Khadir e Vahap in una taverna e chiede a Khadir se è diventato un regista o uno sceneggiatore. Khadir gli risponde che non sa di cosa parli, ma Khadir gli mostra il disco del filmino. Allora Khadir gli chiede di lasciarlo spiegare. Hakan però gli ricorda di avergli detto che non doveva fare nulla a sua insaputa, che ha dimenticato chi comanda rovinando tutto. Poi prende il disco e lo getta nel fuoco del camino. Vahap sta per reagire, ma Khadir lo ferma e Hakan avverte Khadir che è l'ultima volta che lo perdona e la prossima volta rovinerà lui e il suo fratello pazzo. Vahap non si trattiene, tira fuori la pistola e gliela punta addosso, accusandolo di aver rovinato tutto per una donna. Khadir allora gli molla un ceffone e Khadir, a fatica, riesce a fermare il fratello e a mandarlo via. Khadir scarica la colpa sul fratello e gli dice che lo manderà via. Khadir però ribatte che è stato lui a rompere il loro patto e a tradirlo e di non farsi vedere mai più. Più tardi, mentre sono in macchina, Khadir dice a Vahap che non doveva aggredire Hakan e che è vero quello che gli ha detto perché lui è pazzo ed è stato per un anno in un ospedale psichiatrico, quindi gli dice che il giorno dopo deve tornare a Smirne perché per lui è diventato un problema. Vahap rifiuta di andarsene e quando Khadir minaccia di ucciderlo, scende dalla macchina e se ne va. Khadir si maledice per averlo chiamato lì. Shermin, dopo che tutti se ne sono andati, è molto soddisfatta, ma Betul la rimprovera perché con i suoi capricci può rovinare tutto e che se non fosse per lei avrebbe già indosso l'anello di fidanzamento. Shermin, determinata come sempre, le ribatte che sta per diventare la donna più ricca di Ciucurova, tanto che Zuleia sarà zero rispetto a lei e che tutti devono vedere che si fidanza con una grandissima festa. Betul allora le dà ragione. Fikret è con la zia e le dice che sarà contenta di averlo rovinato obbligandolo a fidanzarsi. Lutfie gli ribatte che si è rovinato da solo ma che ora potrà iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Dopo il matrimonio, infatti, deve trasferirsi ad Istanbul con Betul e Kerem Ali per dimenticare Zuleia ed iniziare da capo, ma Fikret le risponde che non se ne andrà perché lì c'è la sua casa. A notte fonda, Vahap si introduce dentro la villa Yaman, entra nella camera di Zuleia che è profondamente addormentata, la guarda a lungo, poi si sdraia al suo fianco, ma quando lei percependo qualcosa si sveglia, lui si nasconde. Zuleia si alza e va nella camera dei bambini per controllarli, mentre Vahap si allontana velocemente. Il giorno seguente Khadir sta litigando con il fratello che vuole uccidere Khan e Khadir gli dice che se non fosse nelle sue mani lo avrebbe già fatto lui e gli ordina di tornare a Esmir per non farlo impazzire. Poi gli raccomanda di prendere i suoi farmaci, lo abbraccia e lo guarda andare via. In quel momento lo raggiunge Khan. Terminano così queste lunghe anticipazioni. Grazie per essere arrivati a fine video. Come avete visto, la vicenda si fa sempre più complicata. Non resta quindi che risentirci prestissimo con nuove anticipazioni di La Nostra Terra Amara. Vi mando un abbraccio, come sempre sono Stefania, e vi aspetto al prossimo video. Khan si incontra con Khadir e gli dice che non farà più affari illegali con lui e gli chiede quanto vuole per uscire dalla loro società e andarsene da Cucurova, visto che era venuto lì per vendicarsi di Adnan Yaman colpendo suo figlio Demir, che però è morto. Khadir gli risponde che mentre lui ha rinunciato alla vendetta per amore, il suo desiderio di vendetta è ancora vivo e per sciogliere la loro società vuole il 70% del valore. Khan gli risponde che aveva pensato al 50%, ma ora gli offre il 40% e lo minaccia di rovinarlo. Khadir mette in dubbio che abbia in mano delle prove contro di lui, Khan gli ribatte che per rovinarlo gli basta esibire le prove di quello che ha fatto in Libano e gli dà due giorni per pensare alla sua offerta. Intanto, mentre Betul con Shermin e Lutfie sceglie le stoffe per i vestiti ed il corredo, Fikret, con faccia da funerale, è dal sarto con Cetin per far confezionare i suoi abiti. È giunta la sera della festa di fidanzamento che Shermin ha organizzato con fasto ed eleganza. Ci sono molti invitati tra le persone più influenti, ci sono anche Gulten e Cetin. Betul e Fikret sono seduti ad un tavolo e lui ha un'espressione molto seria e Betul vede che sta bevendo e che guarda spesso Zuleia che intanto intrattiene gli ospiti. Shermin, gonfia di orgoglio e soddisfazione, accoglie gli ospiti insieme a Lutfie. Fa il suo ingresso il sindaco, in compagnia di Hakan, e quando Fikret lo vede si irrigidisce. Lutfie lo nota e gli si avvicina quando Hakan insieme al sindaco si avvicina per porgere gli auguri. Il sindaco dice a Fikret che ha invitato Hakan e che spera che non gli dispiace. Fikret ingoia il rospo e risponde di no e i due si stringono la mano. Poco dopo il sindaco dà inizio al rito del fidanzamento, facendo indossare a Fikret e Betul gli anelli legati dal nastro rosso che poi lui taglia facendo loro gli auguri di una vita felice. Mentre Betul è al settimo cielo, il volto di Fikret esprime ben altro. Intanto Hakan e Zuleyya ridono e scherzano e Hakan la guarda imbambolato e naturalmente Fikret lo nota. Lutfie, sapendo cosa prova, lo abbraccia con affetto. Iniziano le danze che vengono aperte dai due fidanzati. Betul dice a Fikret che adesso sono fidanzati e lo renderà molto felice. Fikret annuisce e guarda Zuleyya. Intanto, mentre Gaffur e Sanye con Rashid e Fadik sono impegnati in un gioco da tavolo, un uomo mascherato si introduce nella villa senza essere visto e si reca in camera di Zuleyya. Tocca le sue cose e rovista tra i suoi cassetti. Contemporaneamente Gaffur si reca in cucina per calmare la sua fame perenne e qui sente un rumore provenire dal piano di sopra e pensando che sia Min e temendo che si possa fare del male va a raggiungerla. Intanto l'uomo con fare maniacale sta toccando tutti gli oggetti personali di Zuleyya e quando sente Gaffur avvicinarsi esce dalla stanza con una scarpa in mano di Zuleyya, gli si para davanti con un coltello, lo ferisce ad una coscia e scappa. Gaffur inizia a gridare e quando tutti accorrono le avverte che c'era un ladro con cui ha lottato e che lo ha ferito con un coltello. Poi grida che sta per morire e sviene per la paura. Intanto il ladro raggiunge indisturbato la sua macchina, si toglie la maschera e si scopre che è Vahap che è ossessionato da Zuleyya, si avvicina al viso la sua scarpa che ha rubato e l'annusa. Intanto al circolo la festa continua con musica e balli ai quali Sherman partecipa piena di orgoglio ma improvvisamente vengono interrotti dall'ingresso di Rashid nella sala che corre da Zuleyya avvertendola che un ladro è entrato alla villa e ha ferito Gaffur che si trova in ospedale. Zuleyya chiede scusa e se ne va seguita da Khan ma anche Fikret che suscita sorpresa e sconcerto. Lutfie però riesce a fermarlo imponendogli di rimanere lì con la sua fidanzata. Intanto in ospedale Gaffur urla e piange dicendo che non sente più la gamba ed elenca a Sanye le sue ultime volontà. Un medico chiama Sanye e le dice che si tratta di una ferita superficiale che guarirà in pochi giorni e sarà dimesso l'indomani. Nel frattempo è arrivata anche Zuleyya con Gulten, Cetin e a Khan per dare il loro sostegno a Sanye. Quando Zuleyya va da Gaffur lui inizia una delle sue drammatiche sceneggiate dicendole che ha combattuto contro cinque ladri che lo hanno ferito profondamente mentre tutti sanno che non ha nulla e Zuleyya quindi se ne va subito. Allora Sanye fa un cenno a tutti di tacere e con il volto triste dice a Gaffur che la situazione è grave e gli dovranno tagliare la gamba. Gaffur comincia a protestare, chiede un altro medico assicurando che la sua gamba sta bene e si alza in piedi dicendo che ha perso solo tre gocce di sangue. Sanye a questo punto gli chiede perché si è lamentato tanto l'ha fatta preoccupare mentre è sano come un bue e tutti scoppiano a ridere. Al circolo la festa è finita e gli invitati si congedano. Shermin, felice, si compiace della riuscita della festa. Poco dopo però Fikret annuncia che deve andare a vedere come sta Gaffur e se ne va con la zia. Shermin si arrabbia e tormenta Betul perché lui l'ha lasciata per correre da Zuleia. Betul le ribatte che non le importa perché si sono fidanzati e si sposeranno presto. Zuleia e Akan sono alla villa insieme alla polizia che sta svolgendo i rilievi del caso. Zuleia riferisce che le sembra che non abbiano rubato nulla e un agente ipotizza che il ladro sia stato disturbato dalla presenza di Gaffur. Arrivano Lutfi e Fikret e lui vedendole in compagnia di Akan dopo aver offerto il suo aiuto saluta e se ne va. Akan vuole mandare alla villa due suoi uomini ma Zuleia gli dice che ha già raddoppiato la sorveglianza allora lui la saluta dandole un bacio sulla guancia proprio quando arriva Lutfi e li vede. Entrambi le sorridono, Akan la saluta e se ne va. Gaffur torna dall'ospedale lamentandosi per il forte dolore e chiedendo in continuazione cibo. Sanye si reca in paese per comprargli le medicine e quando la farmacista a una cliente le parla del fidanzamento Sanye afferma che Schermine è riuscita a convincere Lutfi lamentandosi che la figlia aveva perso il suo onore e che diffida di Betul perché è sempre la figlia di Schermine. Poi dice che quando la signora Onkar era viva conosceva bene chi fosse Schermine e non le permetteva di entrare nella sua casa. Le due donne concordano dicendo che Schermine si era sempre comportata male con la signora Onkar. Lutfi è con Fikret e gli chiede se ha pensato alla sua proposta di andare a vivere ad Istanbul per iniziare una nuova vita lontano da Zuleia perché restando lì soffrirebbe soltanto e lei non vuole che accada. Fikret le risponde che è d'accordo perché i suoi sentimenti non sono passati e non vuole più soffrire perciò lascerà Chukurova. Zuleia arriva in azienda e la segretaria le consegna un pacchetto appena arrivato. Dentro una bella scatola trova un astuccio in velluto che contiene una splendida collana di brillanti. Il biglietto che la accompagna è di Akan che le scrive che le deve dire una cosa molto importante e che l'aspetta quella sera nel loro solito ristorante. Kadir si incontra con Akan e gli dice che accetta la sua proposta allora Akan afferma che darà istruzione a suoi avvocati per l'avvio delle pratiche. Poi gli dice che dovunque andrà sarà un uomo ricco e senza preoccupazioni. Kadir però gli dice che resterà a vivere a Chukurova perché è il paese in cui è nato. Akan accetta a condizione che non lo infastidisca. Kadir lo avvisa che Zuleia scoprirà la sua vera identità anche se lui non sarà a rivelarglielo. Kadir trova nella sua macchina Vahap che lo avverte che non se ne andrà da Chukurova solo perché lo vuole Akan. Kadir gli urla che è lui che vuole che se ne vada allora Vahap gli dice che se ne andrà solo se gli dice cosa ha in mano Akan che lo può rovinare perché lo aiuterà a trovare una via d'uscita. Kadir gli risponde che ha prove che possono farlo condannare a morte e adesso se ne deve andare e gli raccomanda di prendere le sue medicine. Mentre Zuleia si sta preparando per la serata da trascorrere con Mehmet la raggiunge Lutfie e le dice che deve dirle una cosa ma non vuole offenderla. quindi le dice che è suo diritto essere felice ma la sua relazione con Mehmet procede molto velocemente e ha paura che possa rimanere delusa. Zuleia le risponde che ha ragione e sa che si preoccupa per lei ma Mehmet è una brava persona che la rende felice e le assicura che starà attenta. Zuleia raggiunge Akan in un ristorante su una grande terrazza. Zuleia è bellissima in un tubino di raso celeste e con al collo la collana di brillanti che lui le ha regalato. Akan le dice che è bellissima e notando che ha indossato la collana le chiede se le piace. Zuleia annuisce e lo ringrazia. Akan le dice che le deve dire due cose quindi guardandola negli occhi le offre l'anello che aveva acquistato a Mersin e le chiede se vuole sposarlo. Zuleia è sorpresa esita e poi gli chiede se stanno andando troppo velocemente e si avvicinano entrambi alla balaustra ma non si accorgono che Vahap nascosto tra gli alberi del giardino ha un fucile in mano e li tiene sottotiro. Akan le dice che vuole stare con lei per il resto della sua vita e che la renderà molto felice. Zuleia a questo punto lo guarda gli sorride e gli dice di sì. Akan felice le mette lo splendido anello al dito mentre sono sempre sotto il tiro di Vahap quindi Akan le dice che il suo nome non è Mehmet Kara ma si chiama in quel momento Vahap spara e colpisce Zuleia la testa che cade a terra mentre Akan si inginocchia vicino a lei sconvolto e accarezzandole il viso. Terminano così queste anticipazioni di venerdì 2 e sabato 3 febbraio vi ricordo che la puntata di domenica non andrà in onda questa settimana ma ci sarà un appuntamento speciale per un serale sia giovedì che venerdì prossimi. Intanto la trama si è chiusa con questo grandissimo colpo di scena scopriremo le sorti di Zuleia e di tutti i nostri amati protagonisti nel prossimo video. Io sono Stefania come sempre vi mando un abbraccio e vi aspetto nei commenti e sul canale. che si è